Anticipazioni Beautiful, Thomas e Hop ha letto insieme Eliam. Benvenuti nel nostro canale. In questo nuovo video vi daremo un'anticipazione di quanto accadrà in futuro nella SOP. Vi preghiamo però di supportarci mettendo mi piace al video ed iscrivendovi al canale. Brooke ha sconvolto profondamente Eliam rivelandogli che Hop e Thomas hanno passato la notte assieme. La notizia ha fatto infuriare Eliam, che si è sentito tradito dalla donna che ama e ritiene Thomas colpevole di aver rovinato la sua famiglia. Quando Eliam è stato testimone del bacio tra Hop e Thomas a Roma, per lui il mondo è crollato. Eliam è stato irremovibile nella sua decisione e ha insistito per il divorzio, nonostante le suppliche di perdono da parte di Hop. Tuttavia nei fatti non ha ancora preso misure concrete per formalizzare la separazione e i due sono ancora legalmente sposati. Un incontro casuale con Thomas diventa il detonatore di una rissa tra i due uomini. Eliam infatti lo affronta subito accusandolo Thomas di aver deliberatamente danneggiato la sua famiglia, ma Thomas replica sostenendo di aver solo accettato passivamente l'iniziativa di Hop. Fortunatamente Hop arriva e si mette in mezzo a Eliam e Thomas facendo calmare gli animi. Eliam, devastato, vede Hop allontanarsi con Thomas e si sente profondamente abbandonato e capisce che le situazioni negative che sta affrontando sono in gran parte colpa sua, a causa delle numerose volte in cui ha tradito Hop. La consapevolezza di aver ricevuto il perdono innumerevoli volte da parte di Hop e di altri lo colpisce nel profondo dell'anima. Si rende conto che deve affrontare le conseguenze delle sue azioni passate e pagare il prezzo per il dolore che ha causato a coloro che ama. Grazie a tutti. Grazie a tutti.